Settantesimo, settantottesimo carcere in cui sono passato in visita, la situazione della Basilicata è una situazione molto molto complicata, soprattutto per la carenza organica, soprattutto nelle carceri di Matera e di Potenza. Melfi molto eventi critici, però dai giri che ho fatto e ho riscontrato che in Basilicata abbiamo un problema enorme. Per quanto riguarda Potenza, entro l'anno si riaprirà la metà del carcere, già vi è una sofferenza enorme con il personale che abbiamo adesso. Figuriamoci con la riapertura delle altre sezioni. Ma un'altra cosa che mi lascia veramente molto preoccupato è l'assenza di medici. Un problema, quello dell'assenza di medici all'interno delle carceri italiane, che il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria SPP Aldo Di Giacomo ha riscontrato in tutta Italia. I molti bandi andati deserti hanno accentuato la problematica soprattutto negli istituti di Potenza e Melfi, nel primo aggravata anche dall'assenza di uno psichiatra. Il problema è questo che si aggiunge alle altre tante carenze strutturali che vedono i detenuti costretti a vivere in condizioni spesso proibitive. La situazione strutturale è drammatica, guardi, le ha toccato un tema essenziale perché se non si pone al centro la costruzione di nuove carceri, noi saremo costretti, come abbiamo fatto negli ultimi vent'anni, a ricorrere a indulti e amministie perché i problemi che hanno portato poi alla concessione di indulti amministie sono essenzialmente legati alle strutture. Bisogna ricostruire carceri per questo motivo, per garantire la certezza della pena senza mai dimenticare che dall'altra parte del carcere sono le vittime o i familiari delle vittime che non devono essere beffeggiati, ma soprattutto bisogna tenere conto che al centro del sistema carcerale non è tanto la punizione ma la rieducazione. Grazie